E' l'evidente di questa edizione di Glamour che non si presenta qui nel Classics Restaurant, situato nel Levenstone Resort, Niantil. C'è un ambiente molto relajante, che si può vivere e ricordare anche la luna, con la musica vivo di tanto Ephraim J e Hidion Chandler. E' l'evidente di questa edizione di Glamour che non si presenta qui nel Classics Restaurant, qui nel L'Eventil. E' sempre nella fine di questa edizione di Glamour, vi ricordare che la vostra domanda e la vostra consiglia di Bambini, manda un'e-mail o per noi, ripa nos Blackberry. E' ora per noi mostrare la moda e la bellezza di Cabeza di Pia e di Cercera. E' ora per noi, ma è il giorno di 26 anni, noi stai riusci, noi mesi bandera. Per se a vedere, noi stai luce un'e-braica blusa, con il disegno di noi bandera. E' ora stai combattendo con noi fai, noi fai, noi fai di Milan Fashion. Ma come un'e-braica fai qui, con su Rhinestone, Masha, Greatmes, di differente colori e fai anche, di ehanciura anche, ma small Milan Fashion ti non pavano. E' il jeans 3-4, mi tengo pensato che Milan Fashion acaba di ricevere differente stile di jeans 3-4, short, oltre jeans larghi, che facendo, ma schabomis nella corpa. Nostra vai Milan, hai dei madurus trat ponda, però sempre vai, noi ricordiamo, di Milan tambe, di un caia grande di oto bandera, pa' abo, che ta canna pareu comoda. Milan Fashion. E ora bota Fashion visti, bui mister luce Fashion, pa' lo che è e hair tambe. Deci, noi stai adelaida, Hair Fashion, ave, noi c'abbai, che copi ma scholf, che voi si acostumbrate con questo. E ora stai qui por, e molto più, hai una adelaida, Hair Fashion, guarda con un buon tratamento tambe, pa' bocca bella, una corta, una cambia colore, un camcchita, in fin, tutti i capelli, la che demanda di adelaida, Hair Fashion, hai una comandestrat, nome telefono 747-2730. E ora, in mezzo un cura, adelaida, Hair Fashion, non stai guarda, bo riba sullaica snella, pa' haci bo manicure, bo pedicure, e naturalmente tra bo unianan, di man, mascha bonita, e disegnan tambe, maniera nosti nang ave, ave nostas cohe, pe colo, di nos bandera, riba, nos unian. Tu risa qui por, hai una sullaica snella, jamanan, 747-39, Gesù, tra bo sita, bo manicure, bo pedicure, e tra bo unianan, bonita, sullaica snella, di mezzo un cura, co adelaida, se ha fashion, aiana, con manchester, maniera sempre, nosti avisavo, se bo que luci, mas bonita, inda, bo maquillaje, mister, terraflon, di, Braemar, agensis, guarda bo, maquillaje, cota dura, maquillaje, cota lagaba, luci natural, pero, bonita, Braemar, agensis, e maniera, sempre tambe, nosti acordabu, co cuida, bo cabello, bo por assim, macho picoso, con bo cabello, sabiendosi, di in qui estado, eta, antolaga, nangas, un analisis, di cabello, pavo, aiana, interalfa, interalfa, den zeilandia, interalfa, riba rusa, feldberg, da su un analisis, in antabisabo, quata, e produtu, nang, pa, bo tipo, di cabello, e corda, coa borna, aricibi, tur, produtu, di, tec, eteli, televidente, nostate, un viaja, mas, celebra, dia, di bandera, cu, hopi, honor, di, 26, aia, que noste, bei, isa, nos bandera, antu, pa, tu, res, nang, amante, di, futbol, pa, tu, res, nang, cota simpatiza, e team di Brazil, e team di Holanda, exito pa, mayang, eso n'kuunga bala mio, tagana, in nosotopa, otro simang, den otro edisyon di glamour, aki, na Classics Restaurant.